No dai, quindi perché hai scelto questo corso? Perché hai scelto questo corso? Perché spero che mi possa mettere in comunicazione con il mondo del lavoro. Con il mondo intero. Ma te non devi entrare, ma ti prendono, no? Mi chiamo Francesca Angelucci, ho scelto l'ITS perché è un corso di studi che oltre ad ampliare le mie conoscenze spero mi possa mettere in contatto con il mondo del lavoro. Sì, ma sono tranquillissimo. Come mi stessi a sposare. Uno dei punti forti di questo corso sono le 800 ore di stage lavorative a fronte delle 2000 ore totali del corso. Sono molto fiducioso sul futuro e sulle potenzialità di questo corso. Conto molto sul fatto che durante gli stage all'estero e in Italia riuscirò a trovare la mia giusta strada lavorativa. Meglio un'interrogazione che un'intervista. Gli ITS devono servire innanzitutto a dare una prosecuzione alla formazione dei ragazzi che frequentano le scuole, a dare uno sbocco. È proprio come me l'aspettavo, una cosa pratica dove parli, interagisci con le persone, poi facciamo un sacco di laboratori. Va bene? L'ITS mi può aiutare perché dà una formazione specifica per quello che le aziende vogliono. Sono stata subito assunta nella stessa aziella subito alla fine dello stage. Sono molto contenta di questo percorso e dovessi scegliere da capo lo rifarei di nuovo. La mission della scuola è l'occupazione. Rispetto a una media nazionale intorno all'80%, ad esempio, il nostro ITS si colloca all'incirca oltre il 90%. Un risultato estremamente interessante dal punto di vista dell'occupabilità. Tutti noi sappiamo quanto sia difficile trovare lavoro e soprattutto un imbarco subito dopo la maturità. Con un passaggio che c'è stato anche rispetto al governo nazionale, c'è un riconoscimento ulteriore che viene dato a questo tipo di ITS. Con questo percorso i ragazzi guadagneranno tempo sul loro percorso generale di carriera. È una grandissima opportunità che abbiamo e cerchiamo di sfruttarla al meglio. Non a caso i ragazzi che abbiamo già in questa prima edizione vengono da tutta Italia. Ho scelto l'ITS dove l'arri fa più convinto. Ho scelto l'ITS perché secondo me è il punto di contatto tra l'istruzione e il mondo del lavoro. Il lavoro, quello vero e proprio, si impara rubando con gli occhi e non solo studiando sui libri. Cosa ti aspeci dall'ITS? Lavoro. L'ITS in una parola? Lavoro. Quindi la tua priorità è? Il lavoro. Futuro. ITS in una parola, futuro. L'ITS in tre parole è... Allora l'ITS in due parole è pratico e dinamico. Se un'azienda spende tante ore su di te ci sta che poi riesca a stipularti un contratto. Sì, consiglierò questo corso a tutti. Sicuramente la costituzione di una fondazione è anche una fonte di approvvigionamento di lavoro perché la specializzazione che noi andiamo a ricercare la andiamo a ricercare sui fabbisogni delle aziende. Con il loro contributo, sedendoci intorno a un tavolo, abbiamo definito quelle che devono essere le competenze dei tecnici che loro avrebbero voluto trovare in zona per procedere al loro sviluppo. Sono Melania, sto frequentando l'ITS e ho cominciato lo stage a dicembre dopo aver frequentato vari mesi, quasi un anno di lezioni. Sono molto soddisfatta di questo percorso, di come sta andando, perché sto facendo un lavoro che mi piace e penso che sia davvero importante. Riesce a far sì che si possa avere un ricambio generazionale un domani, anzi un oggi. Ti fa avere conoscenze su cose che magari alle superiori non hai studiato, sono conoscenze ancora superiori a quelle alle superiori, tanto per... Potendo fare tirocini all'interno delle aziende e con l'aiuto dell'università, quindi che ci formano a livello teorico, possiamo avere il confronto tra la realtà studentesca e la realtà del mondo del lavoro. Sicuramente il fatto che i professori provengano direttamente dal mondo del lavoro è un punto di forza del corso e un valore assoluto nel mondo di oggi. La rifacciamo, ormai è giulio 10, ci siamo. I TTS in generale credo che siano una grande nuova opportunità per i giovani che vogliono qualificarsi e specializzarsi in settori molto innovativi. I corsi rilasciano un'attestazione di tecnico superiore riconosciuto dalla legge e soprattutto altamente professionalizzanti e che vengono richiesti in maniera specifica dalle imprese del settore. Sono molto felice, sto facendo il lavoro che desideravo e soprattutto per il quale ho studiato. Gli TTS permettono di fare il lavoro dei sogni. Il nostro obiettivo è proprio di far lavorare il ragazzo sulle cose reali, sulle quali andrà poi a lavorare come professionista, perché uno per imparare a usare il martello si deve tirare una martellata in un dito.